La raccolta differenziata ti fa impazzire? Guide, volantini e numeri verdi non bastano a risolvere tutti i tuoi dubbi? Adesso c'è una app semplice e gratuita. È Junker! Junker riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre. Ti indica i materiali di cui è composto e in che bidoni vanno gettati, sempre secondo le regole del comune in cui ti trovi. E se il prodotto non c'è? Basta fotografarlo e mandare la foto. Junker ti risponde in tempo reale con le info richieste e lo aggiunge al suo archivio di oltre un milione di prodotti. E se ti sposti per lavoro o vacanza? Nessun problema! Basta geolocalizzarsi per avere le informazioni dell'area in cui ti trovi. Calendari, notifiche, punti di raccolta, news e segnalazioni. In questo modo differenziare non è più un problema e non si commettono errori. Scarica Junker adesso! È gratis! E diventi subito protagonista dell'economia circolare!